E' una tradizionista studiata per il nostro, da gli studenti di Sopranos, della facoltà nazionale all'Università degli Spani. E' un nome composto da due spazi, Pairo e Roma. L'Italia è nata, l'idea è nata allo scopo di arricchire la nostra coscienza della lingua e della cultura italiana e quella egiziana. Ho cominciato a formare il gruppo e con l'aiuto di professoressa Andrea Nelli siamo riusciti a pubblicare il primo numero di Cairoma. E Cairoma tratta di vari argomenti, tra cui il simpismo colpito dal declino a causa delle rivoluzioni consecutive. Perciò Cairoma ha discusso come si può riattivare il turismo. E Cairoma tratta il turismo attraverso la presentazione delle offerte culturali ciziani e quelle italiane. Ringraziamo tutti i presenti e tutti i responsabili per averci dato l'occasione di presentare la nostra Cairoma. Soprattutto Sua Eccellenza l'Ambasciatore d'Italia Maurizio Manzali, l'addetto scientifico, il professor Franca Pacelli, la dottoressa Valentini e la professoressa Andrea Nelli, professore Sene, però non è riuscito a venire oggi perché a causa della sua partenza è professore Tignola. Cairoma non è ora di vista, ma esprime i vari punti di vista. Questo è il nostro slogan. Ora darò una copia a Sua Eccellenza l'Ambasciatore d'Italia Maurizio Grazie a tutti. Grazie mille